Pina Picerno, 26 anni, del PD, deputato della provincia di Caserta, siede in Commissione Cultura e Istruzione. Onorevole Picerno, in questo momento in Commissione Cultura e Istruzione non c'è nessuna riforma che riguarda la scuola e l'università, ma questa assenza di questi temi così cari che potrebbero diventare il volano dello sviluppo, lei come li interpreta? Intanto di anni ne ho 28, 26 è il momento dell'elezione e io credo che sia un fatto assolutamente gravissimo. Lo abbiamo visto negli ultimi mesi, le più grandi democrazie occidentali, penso alla Francia di Sarkozy, penso all'America di Obama, in tempi di crisi investono, appunto come diceva lei, in formazione come volano per lo sviluppo, come asset strategico su cui impostare anche la ripresa. Devo dire che in Italia questo si fa fatica a capire, indipendentemente poi dai governi, abbiamo attraversato tanti stagioni diverse, governi di centrodestra, di centrosinistra, ma la cultura, la formazione, l'istruzione, la qualità della formazione dei nostri ragazzi è stato il tema centrale dell'asset di governo. Io credo che si debba invertire una tendenza che da troppi anni è una tendenza assolutamente incomprensibile e ripartire esattamente da qui, ripartire dalla qualità e dal futuro del nostro paese che è appunto la formazione, che è appunto l'investimento in ricerca e in cultura. Certo, investimento in ricerca e cultura, temi cari anche al suo partito, al Partito Democratico, un partito che in questo periodo attraversa forti sconvolgimenti. Dopo la sconfitta elettorale si è visto un rinascere di tante correnti, le vogliamo chiamare, Veltroni fa la sua fondazione, ci sono dei vecchi rituali che riemergono, c'è una questione che ha sollevato Prodi, affidare il partito ai segretari regionali. Che cosa sta accadendo nel Partito Democratico in questo periodo? Sta accadendo che come in tutti i grandi partiti c'è un dibattito aperto, schietto, vero, che parte da una presa di coscienza, una presa di coscienza anche in questo caso molto netta. Noi abbiamo perso le elezioni, le abbiamo perse, io credo, rovinosamente, perché abbiamo perso appunto nel Lazio contro un avversario zoppo, abbiamo perso, diciamo, laddove abbiamo vinto, abbiamo vinto per esempio in Liguria con un'alleanza molto ampia, abbiamo vinto in Puglia grazie ad una scelta che non era propriamente condivisa dalla dirigenza nazionale e quindi serve un dibattito aperto, vero, per tirarci fuori dalle sabbie mobili in cui ci troviamo in questo momento. Per questo ovviamente c'è bisogno di unità, noi abbiamo tenuto come area democratica la corrente, diciamo, di minoranza del partito, una riunione, un seminario di tre giorni, il fine settimana scorso a Cortona e le conclusioni di quel seminario sono state appunto queste, c'è bisogno di unità, noi mettiamo in campo tutta la disponibilità a lavorare insieme al segretario e alla maggioranza per uscire da questo momento di difficoltà, ma partendo dal presupposto che c'è bisogno di un dibattito, diciamo, aperto, di un dibattito vero, di un dibattito franco e noi abbiamo voglia di discutere, lo faremo nella prossima assemblea nazionale che si terrà il 21 e il 22 prossimi a Roma, il fine settimana prossima a Roma, insomma, ripartire insieme ma ripartire affrontando i punti veri che abbiamo di fronte. Lei parla di una necessità di dialogo all'interno del PD, la stessa necessità di dialogo non mi sembra che ci sia all'esterno in materia di riforme. Bersani ancora le riforme istituzionali e le riforme sociali, il governo, la sua maggioranza, pare di orientamento diverso, procedere con le riforme istituzionali. Questo cos'è? Un modo elegante per tirarsi fuori dalle riforme e non affrontare questo periodo che probabilmente sarà di lacrime e sangue? No, guardi, non credo che sia questo il tema. Il PD ha da sempre messo al centro la tutela delle fasce più deboli, ha messo da sempre al centro la tutela dei cittadini, delle fasce più deboli della popolazione e quindi assolutamente noi affronteremo insieme un momento che è un momento assolutamente complicato. Mi riferisco alla crisi economica, alla vicenda della Grecia e a tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Quindi su questo ovviamente il PD ci sarà e ci sarà perché abbiamo, ripeto, al di là delle posizioni di parte come interesse fondamentale la tutela dei cittadini. Detto questo è ovvio che noi lavoriamo per un'alternativa, noi lavoriamo perché si vada presto ad elezioni, siamo pronti, non abbiamo paura, quindi siamo convinti che presto arriverà di nuovo l'alternativa e noi stiamo lavorando per questo. Lei è della provincia di Caserta, la stessa provincia che ha visto Nicola Cosentino, attuale sottosegretario all'economia, con un procedimento a suo carico. La Camera ha respinto una richiesta di arresto, fermo rimanendo che naturalmente, finché nessuno ha una sentenza, è naturalmente innocente. Lei come vede questa linea di confine tra garantismo e legalità? L'operato dei magistrati è un operato che tiene sempre presente questo confine? Guardi, io credo che ci sia un tema che è quello della qualità e della responsabilità della democrazia e delle istituzioni e questo è il tema che noi abbiamo di fronte, che abbiamo avuto di fronte rispetto alla vicenda Cosentino, che abbiamo avuto di fronte negli ultimi mesi quando abbiamo affrontato vari casi di corrutele, di scandali che hanno coinvolto il mondo della politica. Io credo che per queste ragioni, siccome nel momento in cui, quando si rompe evidentemente quel patto, che è il patto tra i cittadini e gli eletti, quando i cittadini si sentono in qualche modo tradite da istituzioni che considerano colluse o addirittura corrotte, allora viene a rompersi quel patto, come dicevo prima, che è il patto in base al quale noi chiediamo ai cittadini rispetto delle leggi, sacrifici, come in questo periodo. E allora io credo che Cosentino avrebbe dovuto fare un passo indietro, non per, non discuto diciamo delle cose di cui si deve occupare la magistratura e di cui fa bene occuparsi la magistratura, ma il tema è appunto, come dicevo all'inizio, la qualità e la responsabilità della politica, di fronte a accuse così gravi, di fronte a cinque pentiti che accusano Cosentino di fatti gravissimi, io credo che sia necessario, quando si ricopre un ruolo così importante come quello di sottosegretario del governo e quindi quando si rappresenta pienamente l'istituzione, è necessario, io credo, fare un passo indietro. Questo è quello che penso in tutta sincerità.